Bentornati in questo nuovo video. Oggi inizieremo a inserire un po' di interfaccia grafica e di completare il nostro WebOnManager inserendo l'update del current e ammo nell'interfaccia grafica che abbiamo. Quindi clicchiamo sul nostro canvas, posizioniamoci in 2D in modo che siamo un po' più chiari. Poi voglio inserire un pannello che mi va a includere tutte le cose che riguardano il mio gioco. Lo chiamerò GamePanel, quindi posso tranquillamente inserire anche il crosshair all'interno del GamePanel. Voglio andare su Color e abbassare l'alpha totalmente a zero in modo tale che il colore di sfondo del pannello sia invisibile, che non voglio che disturbi quello che sto vedendo nel gioco. Poi voglio inserire un paio di text. Uno che lo voglio ancorare, quindi premo, tengo per muto alt, vado qui e lo ancoro totalmente sulla destra. Un altro che posso quindi duplicare, vado e lo ancoro totalmente sulla sinistra. Allora, lì sistemo un pochettino, quindi allargo, faccio delle sistemazioni che potete fare anche voi. Cambio il font in entrambi i testi, che è quello che troverete praticamente negli asset quando avete scaricato il coso che vi ho dato, il come si chiama. Il come si chiama? Sono un genio. Lo sposto un po' più in qua in modo tale che sia più visibile il testo, quindi lo sposto più verso il centro. E adesso allargo la dimensione, direi che questo 33 come gli anni di Cristo va più che bene. Andiamo un pochettino, sì, direi di sì. E facciamo dei testi, quindi mettiamo qua 100 e che ne so, 15, intanto per vedere un pochettino. Questa qua sulla sinistra sarà la vita, quindi gli mettiamo un bel colore rossastro. Direi di che gli aggiungo una componente di outline. Lo stesso faccio con questo, solo essendo munizioni, magari gli voglio mettere un bel verde. Non so perché le munizioni per me sono verde, ma non lo so, voglio farle verde, voi al solito fatele come volete. E qui li metto anche qui in outline in modo tale che venga ben risaltato. Cambiamo il nome, questo qua diventerà AmmoText, mentre quest'altro sarà AltText. Ora voglio assegnargli una tag a questi due testi per il semplice fatto che non posso utilizzare la variabile pubblica poiché noi il nostro GameObjectPlayer non sarà già inserito all'interno della scena e non possiamo inserire dei componenti in quel modo come facevamo noi, tramite editor diciamo, ma possiamo ricercarle tramite tag. Quindi qua aggiungerò una tag, anzi due, che sarà una AltText, che poi mi servirà praticamente quando gestiremo i danni, e l'altra AmmoText. Quindi andiamo su AmmoText, andiamo su Tag e inseriamo l'AmmoText, andiamo su AltText e mettiamo gli AltText. Perfetto, e quindi siamo a posto. Diciamo che come valore di default il 100 per la vita mi sta benissimo, però questo qua non mi va bene, voglio reinserire una sorta di infinito, che però ho visto che con questo tipo di font non si vede bene, quindi direi di mettere due O piccole e stiamo a posto, sembra quasi un infinito alla fine. E ci siamo praticamente. Ok, adesso possiamo tornare nel nostro script, quindi andiamo su Scripts, no, sbagliato, Weapons, Weapon Manager, perché è qui che dobbiamo gestire la nostra cosa. Quindi, innanzitutto, al solito, qui utilizziamo UsingUnityEngine.UI, in modo tale che possiamo accedere alle API relativi all'interfaccia grafica. Poi, l'altra cosa che dobbiamo fare è inserirci una variabile di tipo Text, che chiameremo AmmoText, e poi nel nostro Start dobbiamo cercare questa variabile di tipo Text. Però, una cosa che voglio fare, quindi, è ricercare l'AmoText in questo modo, quindi dobbiamo fare AmmoText, GameObject.FindGameObjectWithTag AmmoText, perché la tag abbiamo inserito AmmoText, e qui voglio inoltre fare GetComponent, perché io con GameObject, FindGameObjectWithTag, mi trovo il GameObject, ma io di questo GameObject mi voglio prendere il componente testo. Quindi scrivo poi punto, e mi trovo il componente testo, che andrò a inserire all'interno di AmmoText. Essendo che questa operazione non è per me fondamentale, se l'oggetto non mi appartiene, io qui posso fare un bel PhotonView.IsMine, perché effettivamente questa cosa non mi serve, non mi appartiene, non mi serve farla negli altri GameObject, mi interessa solo per me. E praticamente siamo a posto, ci siamo. Ora, dov'è che effettivamente io dovrò cambiare questo AmmoText? Dovrò farlo sicuramente su Shooted, quindi ogni qualvolta qui noi spariamo, io voglio che il mio AmmoText sarà uguale, il mio AmmoText.Text, quindi il testo della mia componente testo, sarà uguale a currentAmmo.toString. Questa me la copio perché sarà una cosa che ripeteremo spesso. Di conseguenza, anche quando effettivamente io abilito una nuova arma, voglio che la mia currentAmmo sia cambiata, ma questa la possiamo fare all'interno della nostra RPC, in modo tale che non facciamo le cose dieci volte. Quindi, esatto, lo possiamo inserire tranquillamente qua dentro, su EnableWipon, subito dopo il currentAmmoGetAmmoFromIndex, mettiamo la stessa stringa. e direi che l'unica cosa che manca è esattamente quando noi andremo a... Ah, una cosa che possiamo fare. Discorso qual è? Che quando noi nel nostro currentAmmo, nel basicAmmo, abbiamo inserito che lo basicAmmo del nostro fucile di base è zero. Sulla base di come abbiamo fatto lo script adesso, quindi all'interno di questa RPC abbiamo inserito AmmoText, currentAmmo.string, noi vorremmo che, se fosse un basicRifle, effettivamente sovrascrive questa cosa che già fa, con due O piccole. Io, essenzialmente, quando è che passo al basicAmmo? Sicuramente passo al basicAmmo quando sono all'inizio del mio gioco, quindi esattamente in questo punto. Di conseguenza qua, per completezza, inserisco anche, non più currentAmmo, ma qui voglio mettere due O, che sembrano due infiniti, punto to string, per sovrascrivere, diciamo, quello che ho messo. E voglio anche inserire questa linea di codice, quando effettivamente io ho finito le mie munizioni relative ad un'altra arma, e di conseguenza voglio far apparire a schermo che ho munizioni infinite, quindi inserisco effettivamente questa linea di codice anche qui. Un'ultima cosa che dobbiamo fare è anche qua inserire che effettivamente e io devo effettuare l'aggiornamento delle munizioni, lo voglio fare esclusivamente se io sono proprietario di questo oggetto, sempre per quel discorso lì che vi dicevo. Perfetto, direi che così ci siamo. Ora possiamo fare dei test e vedere se è tutto a posto. Ok, quindi effettivamente lì è inserito correttamente. Bene, le munizioni scalano, vediamo se effettivamente arrivati a zero si resetta. Bene, perfetto. Proviamo l'altra. Perfetto, ragazzi. Spariamole fino alla fine e vediamo che... Perfetto. Ok, ed è tutto funzionante. Ragazzi, adesso prima di concludere il video vorrei risolvere con voi qualche piccolo bug che ho riscontrato mentre facevo dei test sulla funzionalità generale del gioco. Innanzitutto mettiamo quindi il nostro GameObject Player sulla scena. Come avete visto, essenzialmente la rotazione dell'arma, quindi quando io miro, essenzialmente ora vi faccio vedere più nello specifico, quando io miro e quindi sposto il mio fucile verso sopra, verso sopra, verso sotto, quindi sposto la mia telecamera, essenzialmente il fucile esegue appunto la rotazione della telecamera in quel momento. Però, come potete vedere, invece, il Muzzle Fire è posizionato in una posizione e sta fermo lì. Questo perché io, quando ho inserito il Muzzle Flash, non l'ho inserito all'interno del First Person Character. Quindi, dobbiamo essenzialmente inserirlo all'interno di continue e dopo cliccare Apply, in modo tale che venga effettivamente spostato a catena questo comportamento sino al, come si chiama, al mio prefab del mio risurso. Scusate, a volte mi intrippo. E comunque, adesso quindi è risolto. Un'altra cosa che invece voglio fare è che dovremmo inserire un Photon View anche all'interno di questo First Person Character. Ora, sicuramente inserire un Photon View dentro l'altro non è la soluzione migliore, però, essendo che stiamo utilizzando delle cose già fatte, quindi Unity ce l'ha dato in questo modo, noi lo facciamo così. Poi, sicuramente in futuro, quando noi riusciremo a programmare il nostro First Person Character e per come lo vogliamo noi, senza utilizzare cose già pronte, l'avremmo inserito sicuramente all'interno del player stesso. Quindi, quello che ci resta da fare è inserire anche qui un Photon View e inserire un altro componente, che è un Photon View, un Photon Transform View, in cui noi diciamo di voler sincronizzare esclusivamente solo la rotazione, perché a noi ci serve sapere qual è la rotazione delle camere in modo tale che l'arma venga spostata lungo quella direzione. E ci siamo, praticamente. L'unica cosa, ricordatevi di trascinare questa componente e inserirla su Observed Components e poi di cliccare Apply in modo tale che portiamo le modifiche anche sul nostro prefab. Un'ultima cosa che ci resta da fare è andare su Scripts, Player Shooting e praticamente sull'Instant8Bullet per rendere la cosa un po' più precisa. Io qui voglio inserire degli altri parametri che sono il Transform Position e Quaternion Rotation e voglio quindi modificare il... però più che chiamarlo Position lo chiamerei Post se no non vorrei che vada in conflitto e voglio modificare quindi in questo modo i miei script perché io voglio che la posizione, l'esatta posizione nel quale vengono spawnati i miei proiettili sia condivisa con tutti i giocatori e non sia lasciata al caso o comunque alla sincronizzazione che riceve la grafica del mio personaggio quindi qua Transform Post.Position e Post.Position perché dobbiamo prendere la nostra posizione e di conseguenza non ci dimentichiamo qui nei parametri di inserire FirePoint.Position e FirePoint.Rotation ora possiamo salvare e direi che possiamo fare un bel test per concludere e vedere che è tutto a posto quindi al solito andate su File cliccate Build and Run lui vi farà partire il vostro player secondario di tra virgolette pronto per essere rilasciato che troverete nella cartella del vostro gioco mettiamo il gioco qui un attimo che rendo tutto visibile dove sta? qua un attimo ok e ok ok è comparso l'altro mio giocatore guarda qua mi posiziono sulla scena in modo tale che posso vedere l'altro giocatore che sto controllando con la versione sulla destra del gioco adesso e quindi come vedo la rotazione è effettivamente condivisa c'è un errore che effettivamente ho sbagliato qua a fare qualcosa quindi vediamo un pochettino cosa ho sbagliato andiamo su Player Shooting ah giustamente io ho dimenticato una cosa molto importante ovvero che io non posso passare come come RPC un un transform posso solo passare dei Vector 3 o dei o dei o dei Quaternion e di conseguenza passiamolo in questo modo e a questo punto dovremo rifare il test da capo quindi rifacciamo ricarichiamo tutto il sostanzo del discorso è le RPC accettano come parametri esclusivamente dei dei dati semplici che però includono anche i Vector 3 e dei Quaternion non prendono invece i dati complessi come per esempio dei GameObject o dei Transform quindi scordatevi di passare come RPC per esempio un GameObject potete passare string potete passare qualsiasi altro dato ma non un Transform quindi ci siamo eccoci adesso sparo ed effettivamente i proiettili non vengono spawnati che cavolo è successo questi quasi spawn no ok ragazzi scusate come al solito sono un po' stronzo e praticamente sbaglio qui avevo inserito avevo cambiato la posizione anche nella shell che sarebbe il bossolo no assolutamente no questo qua va mantenuto shellpoint.position e shellpoint.rotation non spuntavano i proiettili perché praticamente andavano a impattare l'uno contro l'altro perché spawnavano nella stessa posizione veramente mi scuso ogni tanto mi intripo in maniera in maniera proprio malvagia perfetto adesso funziona tutto perfettamente se ci sono altri problemi altri bug segnalatemi come qualcuno di voi ha fatto in precedenza ci vediamo al prossimo video in cui metteremo i danni quindi i proiettili rilevereranno i danni e quindi la nostra vita diminuirà alla prossima